Presidente Morello, questa mattina il giudice Russo Lillo ha convocato tutte le parti, una prima riunione importante in vista della proroga che dovrà concedere per la presentazione del piano a novembre. Sì, ha voluto ascoltare le parti in causa, ha ascoltato il collegio difensivo della SIDICAS, la procura, i commissari, l'amministratore giudiziario e ora si determinerà sulla proroga o meno. Che cosa emerge da questo incontro? Un po' quello che è il lavoro che è stato fatto in questi mesi e il lavoro che si dovrà fare. Le sensazioni vostre quali sono? No, io non mi esprimo mai su sensazioni, aspettiamo la risposta del collegio. C'è questa manifestazione di interesse, la Italgas ci sarebbe per l'acquisizione dei parcel e delle reti della SIDICAS? Ce la conferma, ce la smentisce? Non mi rivolgere a un'altra persona perché io non la conosco questa manifestazione. Non conosce l'esistenza, ma se ne è parlato durante la riunione oppure no? Sicuramente no. Non se ne è parlato? No. Senta, le rubiamo anche una battuta sulla squadra. Se ci sono questi problemi societari, invece la squadra sta dimostrando anche una capacità di isolarsi da tutto e di dare una grande prova e una grande risposta sul campo. Problemi? Io li definisco problemi. C'è un momento di tensione della SIDICAS che la sta affrontando. Per quanto concerne la squadra sicuramente starà dimostrando quello che era il nostro spot iniziale, prima uomini e poi giocatori. Un gruppo compatto che, come ho già detto nella scorsa conferenza, io ne vado orgogliosissimo perché entrare in campo e concentrarsi sul proprio lavoro e portare a casa questi risultati è merito di tutti. Il prossimo appuntamento è qui in tribunale anche per lo stadio Partenio perché l'altra volta c'è stata questa vicenda dell'ICS che ha fatto un po' slittare i tempi, anche se c'era il Dario Scalella con cui avete parlato insieme al sindaco. Sì, ci dobbiamo incontrare per parlare di tutta quella che è la vicenda riguardante lo stadio Partenio, sottolineare anche quello che noi ci aspettiamo da parte dell'amministrazione che deve essere fatto. È un po' il discorso che voi tutti già conoscete. Il Partenio è una struttura obsoleta che ha bisogno di continua e costante manutenzione e noi conosciamo benissimo anche i conti del comune che non ha queste disponibilità da riservare al Partenio. Però c'è piena condivisione dei problemi, sicuramente ne usciremo con un punto di vista comune a entrambe le parti. Il prossimo appuntamento è qui in tribunale? Il prossimo appuntamento è qui in tribunale cosa? Se ci saranno aggiornamenti dopo questa giornata, le date quali... Attendiamo quelle che sono le risposte da parte del tribunale. Siete fiducesi sulla risoluzione positiva, cioè sull'occheri per la proroga, per la presentazione del piano a novembre e poi sulla strategia che permetterà a questa storia di avere un lieto fine? Guarda, non si tratta di fiducia, si tratta di conoscenza del momento di...